Gli dissi, io non mi sento di seguirti in questa avventura, quindi noi dobbiamo separarci. Fu una separazione consensuale fra me e Berlusconi. Il patto su cui si reggeva la nostra convivenza e che era stato scrupolosamente osservato da tutte e due le parti, la sua e la mia, era questo. Berlusconi è il proprietario del giornale perché lo aveva regolarmente rilevato dagli azionisti, Montanelli è il padrone del giornale, quindi Berlusconi viene al giornale dove? Nell'ufficio amministrativo perché è giusto che veda come vanno i sogni. Veniva lui o veniva il fratello? No, veniva, allora dal principio veniva lui, però si fermava al secondo piano, io stavo al terzo, poi noi ci vedevamo extra giornale, ma parlavamo di tutto fuorché del giornale e il giornale lo dirigevo solo io e lui mi disse no, in questo momento io entro in politica, ho bisogno di un giornale che sostenga la mia battaglia. Siccome il giornale è mio, allora dico, scegliti un altro direttore perché io al servizio, non è che non voglio mettermi al servizio tuo, io non voglio mettermi al servizio, non mi sono mai messo al servizio, nessuno perché mi devo mettere al servizio tuo, anche perché non credo alle tue fortune, li sbagliavo perché non immaginavo che appena sceso in politica questo diventato avrebbe stravinto fino a diventare presidente del Consiglio in un battibaleno.